Una buona giornata dalla redazione di La Sette, oggi è giovedì 2 novembre, oggi cosa troviamo sui giornali? Molte pagine riguardo a quello che è successo ieri, quello scherzo telefonico, se così possiamo ancora definirlo, fatto al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da due comici russi con le conseguenze non tanto per le frasi pronunciate dalla Premier ma per le evidenti falle della sicurezza dimostrate dai due comici, messi in evidenza dai due comici la nota di Palazzo Chigi a riguardo e chi pagherà poi per questo. C'è questo ma c'è, come vedremo, partiamo subito dalla prima pagina del Corriere della sera ancora l'onda antisemita in Europa di cui ci siamo occupati ieri leggendovi molti degli interventi ospitati dai quotidiani, c'è questo, c'è il dramma dei profughi, c'è il futuro della striscia di Gaza, i piani degli americani come leggeremo intanto emergono in tutto il loro fragore le voci di chi è fuori da Gaza, ieri i primi 400 civili sono usciti dalla striscia, le voci di chi è fuori, lì è un disastro, siamo distrutti, l'onda antisemita in Europa però il titolo scelto dal Corriere della sera, centinaia di stranieri feriti gravi via da Gaza, Tajani racconta anche di quei quattro italiani che sono stati evacuati e poi il discorso antisemita, altre pietre d'inciampo danneggiata a Roma, fuoco e svastica alla sala funebre ebraica di Vienna, in alto nella pagina come vedete lo scherzo telefonico alla Premier di cui abbiamo parlato e di cui parleremo. Vediamo anche l'apertura di Repubblica, la beffa russa, oggi Repubblica sceglie di aprire proprio su questo tema, due comici moscoviti che sono riusciti ad aggirare i controlli e parlare con la Premier fingendosi il leader dell'Unione Africana, la Presidente del Consiglio nella telefonata fake, stanchi del conflitto in Ucraina, poi scopre il giro e esprime il suo sostegno a Kiev. C'è il discorso Gaza subito sotto, non so se riusciamo a vedere la pagina centrale di Repubblica, stranieri e malati via da Gaza, anche quattro italiani con l'allarme del Papa, c'è ancora antisemitismo. Dalla prima di Repubblica, quella del messaggero, gli argomenti di cui abbiamo parlato si rincorrono anche sulla prima del quotidiano romano, manovra aumenti estesi agli statali, non so per quale motivo non riusciamo a vederli e spero che ci riusciremo tra un attimo. Gaza fuori i primi profughi invece il titolo d'apertura scelto dal quotidiano romano, escono dal barco di Rafa in 500, ci sono anche quattro italiani, era impossibile rimanere, gli Stati Uniti inviano i cacciatori di ostaggi, il Papa a Tg1, ecco il messaggero, servono due stati, l'antisemitismo c'è. C'è anche il racconto che arriva da lì, dall'inviato del messaggero con i coloni armati di Eli, uno dei tanti insediamenti in Cisgiordania, Dio ci dice di restare qui, la manovra è in taglio alta, aumenti estesi agli statali precari, vi faccio vedere ancora perché non so se prima siamo riusciti a farlo, la prima di Repubblica, l'abbiamo già letta ma questo è il titolo comunque scelto per l'apertura e anche il Corriere della Sera con il titolo sull'antisemitismo che dilaga in Europa, ma non solo, come vedremo anche negli Stati Uniti e lo scherzo telefonico a Giorgia Meloni. Ancora una carrellata dei titoli dei principali quotidiani italiani prima di andare a leggere in maniera dettagliata di cosa si occupano oggi, il confine dell'umanità, oggi la stampa ha diversi interventi su questo, in particolare un reportage di Francesca Mannocchi che racconta il vivere e morire nei campi profughi alla frontiera di Rafa, passano solo i palestinesi con il doppio passaporto, tra questi anche ci sono cinque italiani liberati ieri con la soddisfazione del nostro ministro dell'interno. Intanto mentre dilaga l'antisemitismo c'è anche chi si concentra sul problema Islam come il giornale per esempio, mentre avanza l'antisemitismo l'euro stretta proprio sui musulmani in i paesi europei in trincea contro il terrorismo, più intelligence e controlli intensificati su moschee, scuole e tribunali. A proposito di questo, ieri abbiamo letto molti interventi che si chiedevano come mai il Vaticano non prendesse una presa di posizione, non prendesse una posizione precisa per la condanna di Hamas e l'intervento contro i civili in Israele. Ieri il Tg1 lo fa con una lunga intervista al Pontefice al quale non viene rivolta una domanda precisa ma la posizione la prende, dice l'antisemitismo resiste oltre alla Shoah e tante altre cose che leggeremo nella seconda parte. Da libero le iene di Putin contro Giorgia, la lettura che fa Mario Secchi oggi è quella più che una burla di un intrigo contro Giorgia Meloni. Ai danni di Giorgia Meloni le impronte dei servizi russi sulla finta telefonata al Premier, lo con lo zar che cerca l'incidente con l'Ucraina e la sinistra che ne approfitta per sfruttare questo attacco. Come vedete anche qui sull'antisemitismo che trova purtroppo degli episodi sconcertanti in giro per il mondo, caccia all'ebreo e mezzomondo, c'è una lunga serie di interventi, in questo caso a pagina 6 è Francesco Storace che attacca Elie Schlein, ma come vedrete su molti quotidiani ci sono diversi spunti e diversi interventi su questo anche oggi. Dal fatto quotidiano l'apertura è dedicata allo scherzo telefonico fatto a Giorgia Meloni in retromarcia sull'Ucraina con due comici russi per farle dire la verità, ci voleva uno scherzo, il titolo scelto da Travaglio che poi sberleffa come uno sberleffo alla Premier, ripropone una vecchia telefonata di Totò Truffa, il Premier crede di parlare a un leader africano, via d'uscita accettabile per le due parti, questa lettura politica è quella che fanno molti quotidiani, cioè l'ammissione che c'è una stanchezza di fondo da parte dei paesi che sostengono l'Ucraina, forse il regalo o il danno più grave che quelle parole hanno prodotto al di là delle falle della sicurezza e il domani lo sottolinea, guerra in Ucraina, c'è stanchezza, Meloni cade nella trappola dei russi, la lettura che fa Giulia Merlon nel suo pezzo spacciandosi per un politico africano, un due comico riesce a parlare con la Premier al telefono, attacca la Francia sui migranti e ventila soluzioni al conflitto tra Kiev e Putin, dal domani alla verità sull'altra sponda politica, a meno di appartenenza del quotidiano, la lettura è completamente diversa, come vedete alla Meloni scappa la verità, la guerra Ucraina deve finire, il Premier confessa che c'è stanchezza tra gli alleati di Kiev e sostiene di avere alcune idee su come trovare una soluzione che sia accettabile per entrambe le parti e viva, sottolinea però Maurizio Belpietro, dice quello che tutti pensano, ora speriamo che metta in tavola le proposte di cui ha fatto cenno al più presto, dalla verità al mattino, l'onda dell'antisemitismo anche per il quotidiano diretto da Decore, dopo Parigi, Reide a Roma, devastate le pietre in Ciampo, in Austria il rogo al cimitero ebraico e il Papa che dice la Shoah non è bastata, servono due stati, ne parliamo adesso anche dei temi economici, ancora sui provocatori, in piazza il tempo di Roma in apertura contro manifestazione della sinistra nel giorno del cortea voluto da Salvini con il leader leghista che ribadisce non sarà un evento contro una religione o una civiltà ma il rischio che prenda questa piega in effetti c'è, il resto del Carlino punta all'odio in casa con la fotonotizia che racchiude quattro dei principali episodi di antisemitismo che si sono verificati negli ultimi giorni, Roma, Milano, Vienna e Parigi in apertura la telefonata trappola dei russi a Giorgia Meloni, segnali di odio per l'avvenire quotidiano dei Vescovi che su questo scrivono a Roma nel Mirino quattro pietre di in Ciampo, avviene il cimitero ebraico insieme all'accanimento antisemita, adesso cresce anche l'allarme per l'islamofobia. Parliamo anche di economia, il sole 24 ore oggi si concentra su alcuni aspetti del nostro debito e cioè pensioni, 110% e BTP, la spesa corre da interessi sul debito, previdenze super bonus, 62 miliardi di uscite in più nel 2024 con qualche motivo di preoccupazione in più che aggiunge Milano Finanza con il direttore Roberto Sommella oggi che racconta di come le casse abbiano detto no al MEF, al Ministero, cioè gli enti previdenziali non investiranno in cassa, depositi e prestiti equiti. Primi ostacoli per le privatizzazioni di Giorgetti, Empaia, Cassa Forense, Inarcassa e commercialisti hanno infatti già declinato a quanto pare l'offerta di rilevare il 30% del veicolo di partecipazioni. Un'ultima segnalazione prima di passare allo sport con la Gazzetta dello Sport o meglio altri due giornali che non abbiamo ancora visto. Ecco la notizia, c'è poco da scherzare, scrive Pedula, oggi due comici russi ingannano Meloni che dopo l'Italia vuole ingannare pure l'Ucraina. Questa è la lettura che fa il quotidiano. Il manifesto torna a Gaza con il titolo a effetto nel tunnel, scambio di prigionieri o conquista, aiuti o assedio, tregua o guerra, sotto Gaza in macerie ci sono 240 ostaggi ma per riaverli ogni piazza di Tel Aviv è divisa tra politica, etnia e classe. C'è solamente un accordo via Netanyahu a quanto pare. Dicevamo il foglio, ieri molti spunti sull'antisemitismo con diversi interventi, oggi scrive il direttore La pace si difende con la forza, manifesto di una nuova stagione. Chiudiamo come detto con la gazzetta dello Sport, poi una piccola pausa e dopo vedremo tutto quello che c'è all'interno. Oggi in primo piano dopo il Milan di ieri c'è Inter e Juve. Dite la verità, scudette non solo perché il derby d'Italia non è mai banale, ci avviciniamo infatti alla partita delle partite. A tra poco con tutti i nostri spunti e state con noi. Sette e quindici, ben trovati, seconda parte di questa edicola. Andiamo subito nella striscia di Gaza cominciando a capire come stanno andando le cose sul terreno di guerra. Le operazioni militari ce le racconta l'inviato di Repubblica, Daniele Raineri. Gaza City è accerchiata, ora si combatte a terra, il nord è isolato dal sud. Se andiamo a leggere cosa ha fatto l'esercito israeliano, intanto l'annuncio di essere a soli tre chilometri da Gaza City, ma come si diceva per ora ha scelto i percorsi di minore resistenza, poi entrare nei centri occupati da masse sarà materia differente. Per il secondo giorno consecutivo ci sono state operazioni di terra e raid aerei contro il campo a profughi di Jabalia, con grande preoccupazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che su X ha scritto che dato l'alto numero di vittime civili e l'ampiezza della distruzione dopo i raid israeliani sul campo profughi. Siamo seriamente preoccupati che questi attacchi sproporzionati possano essere configurati come crimini di guerra e su questo si avvita una serie di polemiche che leggeremo e leggerete sui giornali, che vi invito sempre a comprare almeno uno. Tra i soldati israeliani ora non c'è spazio per piangere i caduti, il nemico ci aspetta. Questo è il mood invece sull'altro fronte, cioè all'interno delle truppe dell'IDF, con l'inviato del Corriere della Sera, in questo caso, che racconta come si sentano appunto quei soldati con le prime 16 vittime ufficiali. Adesso niente paura, raccontano, basta paura, bisogna solo combattere, questa è la missione, non abbiamo più alternative, dobbiamo combattere o noi o loro. Ma quanti sono i morti? 16 comunicati ieri? Sono tanti, probabilmente di più, racconta questa fonte, il vero numero delle nostre perdite è più alto, ma aspettiamo a dichiararlo perché prima devono notificare le famiglie. Il sergente Arie che ha 33 anni e vive a Betel, una colonia della Cisgiordania. Proprio tra i coloni della Cisgiordania andremo tra poco a leggere alcune testimonianze che trovate sui giornali. Sulla guerriglia a Gaza sono scritti fiumi di inchiostro già dopo meno di un mese di guerra. C'è un'interessante oggi, un'analisi che trovate sul Fatto Quotidiano. Gaza è più rischiosa anche dell'Iraq, scrive Fabio Scuto. Chi lo dice? Lo dicono dei generali americani, dei generali che sono andati in missione in Israele per spiegare quali siano i rischi maggiori di questo tipo di battaglia e che a quanto pare, secondo questo racconto, sono stati anche un po' snobbati dagli israeliani. Una missione discreta, snobbata per l'appunto dagli israeliani. Risultano solo dei colloqui col capo di Stato maggiore che li ha trattati con una certa sufficienza. Ma cosa hanno detto questi generali americani? Hanno raccontato le battaglie di Fallujah e Mosul, ricorderete, in Iraq, che hanno insegnato agli americani quelle battaglie che la vittoria militare poi non significa un successo politico, anzi danneggiare la popolazione e le infrastrutture civili. Ha invece alimentato l'odio verso gli americani consentendo alle milizie anti-americane di ottenere poi il sostegno della popolazione. E proprio lì, in Iraq, ci ricordiamo tutti che questo ha prodotto di fatto la nascita dell'Isis. Ma c'è un piano per Gaza? Forse sì. Davide Frattini oggi lo racconta sul Corriere della Sera. L'idea americana sarebbe quella di una forza internazionale per la transizione. Intanto altri soldi, 190 milioni di dollari in tasse raccolte a nome dell'autorità palestinese che Israele rifiuta di depositare malgrado le richieste americane che dovrebbero arrivare a chi ne ha bisogno, non soltanto a chi governa la striscia. Sono prime formule scelte, è ovviamente uno dei tanti piani che si fanno per il dopo e poi ovviamente la soluzione politica che prevede anche di un'autorità a ramalla che non collassi perché è uno dei possibili piani da sviluppare dopo la fine dello scontro con Hamas. Prevede il ritorno della striscia sotto il controllo di Abu Mazen, cioè il capo dell'autorità nazionale palestinese che ha 87 anni ed è ormai troppo impopolare anche a casa sua o comunque del suo successore. Dai piani di Gaza a la realtà del campo. Torniamo ai racconti drammatici, ieri ne abbiamo fatti tanti con gli ospedali che hanno raccolto i feriti di Jabalia. Oggi Francesca Mannocchi sulla stampa nel suo reportage racconta il dramma dei profughi, di quello che è il luogo simbolo del conflitto israelo-palestinese, il campo profughi di Jabalia per l'appunto 100 mila persone. Da qui partì la prima intifada, tutti raccolti in poco più di un chilometro quadrato senza null'altro che Hamas e gli aiuti umanitari. E questo si collega a quello che abbiamo detto prima, il fatto di lasciare una popolazione senza nulla se non la rabbia purtroppo non produce nulla di buono in Iraq come a Gaza, come si è visto. Un luogo simbolico, dicevamo, nella storia del conflitto israelo-palestinese, è il luogo dell'inizio della prima intifada, dei comitati popolari e punto d'incontro dell'attivismo internazionale nella striscia, ma anche un luogo in cui gli eventi si ripetono tragicamente durante il conflitto del 2014. Per esempio l'artiglieria israeliana colpì una scuola dell'Agenzia delle Nazioni Unite uccidendo almeno 15 persone e ferendone 100. 3.000 persone si erano ammassate nella scuola femminile di Jabalia dopo che l'esercito israeliano aveva avvertito i civili di lasciare le proprie case per non rischiare la morte sotto i bombardamenti. La storia si ripete, scrive Francesca Mannocchi, ed è esattamente quello che è successo anche in questo caso, con queste conseguenze. Ieri abbiamo raccontato la testimonianza dall'ospedale uno che ha raccolto quei feriti, molti bambini. Oggi il dramma di chi fugge, uccisi, rapiti, in fuga, sono i bambini, tanti, tantissimi, che sono testimoni di questa tragedia e che chiedono semplicemente o magari di tornare all'asilo. Siamo su un messaggero, sono 3.648 i morti, altri 6.300 sono feriti, 400 bambini feriti al giorno, decini di piccoli massacrati e portati via dai terroristi di Hamas il 7 ottobre. E l'altra faccia della realtà, l'abbiamo fatto ieri, lo facciamo anche oggi perché con grande onestà si possono raccontare gli orrori e gli sbagli di entrambe le parti. C'è un altro reportage dopo quello del Corriere della Sera di ieri, anche oggi sul messaggero Greta Cristini, va a intervistare quei coloni nel feudo di Eli, il feudo di Eli è in Cisgiordania, Palestina tradotto in maniera grossolana. Occupazione, è Dio che ci dice che dobbiamo stare qui. All'ingresso dell'insediamento ci sono donne armate e un grande cartello con la scritta vendetta. L'ultra ortodossa svietta intervistata aggiunge abbiamo mandato via tutti gli arabi, ci espanderemo. Una politica quella in Cisgiordania che non ha prodotto purtroppo buoni risultati. E al centro delle polemiche rimane sempre lui nella foto che vedete al centro dell'analisi di Federico Fubini sul Corriere della Sera, Benjamin Netanyahu. Avevo avvertito di un attacco di Hamas, ma Bibi è stato cieco. Chi parla in questo caso è Gigal Carmon, ex consigliere di Rabin. Con i soldi del Qatar a Gaza pensava di garantirsi la pace, ma soprattutto racconta che i segnali erano molti, ben visibili. I video su Telegram delle esercitazioni militari a Gaza in settembre, la propaganda delle conferenze, i discorsi non hanno fatto molto per nascondere le loro intenzioni. L'ho scritto più volte. All'intelligenza israeliana, chiede Fubini, non si era reso conto? Certo, certo che sospettavano qualcosa. Il direttore dello Scimbet la sera del 6 ottobre, un venerdì, capisce che qualcosa sta per accadere. Convoca una riunione per il mattino seguente alle 8. Quella sera rimane persino a dormire in ufficio. Attenzione, è fatto molto inusuale per uno Shabbat. Era sabato quel giorno, il giorno dopo. Purtroppo alle 8 di sabato era tardi per prevenire. L'attacco era già iniziato alle 6 e mezza del mattino. E questo è un tassello in più che aggiungiamo nel nostro intento di ricostruire che cosa sia successo e quali siano state le falle del servizio segreto israeliano. Ma Netanyahu finisce nel mirino anche per suo figlio. Viene attaccato su tutti i fronti, politici e non solo, perché il suo figlio di 32 anni se ne sta comodamente a Miami e pur solidarizzando con i soldati su Instagram non si arruola, non è tornato, malgrado avrebbe letà per combattere e scoppia la polemica di tutti gli altri. Cioè così offende chi combatte. Tra l'altro un figlio mandato a Miami proprio perché si era reso responsabile di alcuni post, alcune sparate, scrive il giornale, proprio sui social, su Twitter. Restiamo in America perché in merito ai negazionismi, ai vari episodi in giro per il mondo che riportano molto indietro nel tempo e riaccendono questo antisemitismo nel mondo, sottolinea oggi Repubblica con Gianni Riotta che anche nei campus americani c'è un po' questa tendenza. Un viaggio in quei campus dove Hamas diventa icona alla Che Guevara. Racconta Gianni Riotta da Princeton a Yale, da Harvard a Stanford, di Van Palodio contro gli israeliani. E c'è un lungo racconto che vi invitiamo a leggere, molto strutturato, sul perché questi discorsi tornino a farsi sentire adesso con grande intensità. Non solo nei campus americani ma anche in Italia. Adesso ci arriveremo. Intanto il giornale certifica che gli episodi antisemiti abbiano fatto segnare un drammatico boom a più 300% in giro per l'Europa, dai cimiteri alle targhe, odiano pure la memoria e il titolo scelto non a caso è caccia agli ebrei che ormai sta diventando purtroppo un sommario ricorrente sui giornali. Diciamo dell'Italia, non solo in America. A Bologna, scrive Libero oggi, attaccando i professori, si boicotta Israele. In Ateneo 143 docenti avrebbero firmato un manifesto per chiedere il cessato del fuoco e condannare la politica dei raid con questa petizione raccontata da Claudio Smetti. Questa pagina di Libero mi permette anche di salutare con un ricordo, lo vedete a centropagina, l'ex ministro Berlinguer, Luigi Berlinguer, che ieri si è spento a 91 anni, è stato tra l'altro anche ex ministro dell'istruzione, viene ricordato così, cugino di Enrico, su Libero. Ci spostiamo sull'ultima segnalazione sul Fatto Quotidiano, sul giornale, scusate, perché ieri abbiamo parlato di tante richieste di chiarezza che erano arrivate al Vaticano per una posizione di condanna dei raid di Hamas, che non c'era ancora stata da parte della Santa Sede. Ieri Gianmarco Chiocci, il direttore del Tg1, intervista a Papa Francesco, una lunga intervista in cui si parla un po' di tutto, anche di calcio, la frase però che oggi trovate, scelta dai giornali per fare titolo, è questa, la Shoah non è bastata, l'antisemitismo c'è ancora, vedo tanti episodi anche tra i giovani, racconta il Papa, e purtroppo ci siamo a sue fatti alle guerre, ma il Papa fornisce anche la sua soluzione alla crisi, due popoli, due stati e uno statuto speciale per Gerusalemme. Questo per quanto riguarda, come abbiamo visto, la questione della guerra tra Israele e Gaza, ma sui giornali c'è tanto altro, per esempio tutto il discorso che riguarda lo scherzo telefonico a Giorgia Meloni, la posizione ufficiale di Palazzo Chigi, la prendiamo dal Corriere della Sera, è che chi si occupa di Africa nell'ufficio deposto è la consigliera che si chiama Lucia Pasqualini, ma il comunicato diffuso ieri da Palazzo Chigi con il ramarico pubblico è il capo dell'ufficio, l'ambasciatore Francesco Talò, che si è di fatto preso interamente la responsabilità dell'accaduto, anche se non ha gestito direttamente lui la vicenda. È chiaro che Talò, già ambasciatore presso la Nato, andrà in pensione tra qualche mese, viene scelto un po', diciamo così, sacrificato sull'altare delle polemiche come il responsabile, ma intanto, la foto la trovate anche su Repubblica, eccola qui, oggi Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini raccontano quali siano stati tutti i filtri che sono stati aggirati e come si è stato beffato Palazzo Chigi, è un atto di guerra ibrida, la responsabilità della segreteria particolare nella gestione del primo messaggio, ma soprattutto è passato più di un mese per capire l'inganno, perché più di quello che ha detto Giorgio Meloni ha fatto pensare il modo in cui queste due persone, questi due comici, eccoli, intervistati proprio da Repubblica nella pagina seguente, hanno aggirato tutti i sistemi di sicurezza e si sono presi beffe della Presidente del Consiglio. L'abbiamo cercata e lei ci ha richiamati, ma non siamo spie. Forse questo è l'aspetto più tragicomico della vicenda, cioè dopo aver, i due raccontano, dopo aver aggirato tutte le difese, e sui cui modi non vogliono dire, di fatto si sono fatti richiamare, carpendo la fiducia della Presidenza del Consiglio, come siete riusciti a raggiungere Giorgia Meloni al telefono? Uno dei due dice, preferiamo non dirlo, non vogliamo mettere nei guai le persone che sono state coinvolte, Palazzo Chigi sa com'è successo, o almeno spera se non lo sa, vuol dire che ha un problema di sicurezza. La beffa nella beffa, c'è la sottolineatura del fatto che c'è un problema. Ci sarebbe ancora tanto da leggere su questo, ma ci sono anche due segnalazioni da fare importanti, intanto le critiche oggi di Giuseppe Conte alla manovra, durissima, se è un segnale forte, e anche quelle di Ellis Line, entrambe intervistate sui giornali, che, lo ripeterò fino alla morte, andate in edicola ad acquistare, intanto ci sono però le nostre notizie, quelle del mattino, con Nifa Colasanto, Nifa ben trovata. Sì, buongiorno a te Marco, buongiorno ai nostri telespettatori, ce l'hai fatto vedere sui giornali in edicola, questa mattina continua l'avanzata dell'esercito israeliano dentro Gaza. Ora, pochi minuti fa, l'esercito israeliano ha diffuso un bollettino nel quale parla di decine di militanti di Hamas che sarebbero stati uccisi nel corso, in particolare, di un raid che segnalano nel nord della striscia che ha coinvolto non soltanto le forze di terra dell'esercito di Tel Aviv, ma anche la marina e l'aeronautica. Questo mentre la mezzaluna rossa palestinese parla di un attacco molto vicino al più grande ospedale della striscia di Gaza, parliamo dell'ospedale di Al-Quds dopo i due attacchi di ieri e dell'altro ieri sul campo profughi, anche questo il più grande campo profughi israeliano, scusate, palestinese, quello di Jalabia e poi la diplomazia che chiaramente sta tentando di tutto per arrivare ad un cessate il fuoco, almeno ad una pausa e per questo Blinken sarà domani in Israele, poi non parleremo soltanto di questo, ma anche della politica italiana e del tennis con l'ennesima vittoria di Yannick Sinner. Ora però io do la parola a Paolo Sottocorona per le previsioni di oggi. A te Paolo, buongiorno. Grazie Nifa, buongiorno. Questa situazione che vedete, tutta questa nuvolosità, sembra molto organizzata e se sembra cattiva, tra virgolette, lo è e lo sarà molto, perché la situazione già nei giorni scorsi, questo passaggio di maltempo, lascia una situazione instabile sostanzialmente che viene attivata da questi nuovi impulsi che arrivano da Ovest. Previsioni per la giornata di oggi? Ecco di nuovo il peggioramento molto forte che prende sostanzialmente con qualche eccezione tutto il nord, fenomeni molto estesi e molto intensi, quindi non fenomeni isolati, ma ci sono vaste zone in cui contemporaneamente ci saranno precipitazioni particolarmente forti. a prendere il nord, parte della Toscana, quasi tutta in realtà, e poi passando sul resto del centro, verso il sud, i fenomeni ci sono, ma vanno un po' a scemare, a calare, per cui al sud di pioggia ce ne saranno poche, qualche fenomeno intenso, vedete, tocca anche il nord della Sardegna. Questa situazione si sposta domani verso le regioni del centro, lascia delle schiarite sul nord-ovest, precipitazioni residue, ma ancora intense, per esempio sul Friuli Venezia Giulia, sull'Appennino Tosco Emiliano, la parte intensa si sposta al centro, sulla Sardegna, e si affaccia anche al sud, specie sul versante tirrenico, ma le piogge arrivano anche sul versante adriatico, arriviamo alla giornata di sabato, in cui quel maltempo si sposta alla fine tutto verso sud, lascia delle piogge solo moderate al centro, ma c'è di nuovo il segno di un peggioramento a partire dal nord, quindi sono cicli continui, quindi ci aspettiamo una giornata di domenica ancora con precipitazioni molto forti, molto velocemente, e chiudo con i due soliti flash finali, le temperature minime di questa mattina sono scese un poco anche al sud, perché quest'area non è particolarmente fredda, ma certo è meno calda di quella che c'era nei giorni precedenti, lo stato dei mari si parte da situazione tranquilla a est, via via che ci si sposta ai mari centrali e soprattutto a ovest di Corsica e Sardegna, vedete quei colori fra il giallo e il rosso indicano un moto ondoso decisamente, elevato, fra 5 e 6 su una scala di 9. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Ninfacola Santo. A più tardi.